Fortuna intanto si comincia con l'Ace di Lua T Mazzone libero Rossini e ora arriva un grande Ace di Lua T Rossini e arriva l'Ace, il terzo in questo parziale per l'UAT Il numero 7 francese, sempre solito chiata al soffitto prima del servizio in salto ed è un servizio vincente, non tiene Rossini Sta dimostrando di avere braccio piuttosto caldo e lo fa anche questa volta con l'ennesimo Ace proprio sulla linea